Quindi, avete dei defecti sul vostro prezzo. Come sai se il bilancio di trasferimento è un culprito? Quali sono i defecti che sono relati al bilancio di trasferimento? E quali sono i defecti che non sono relati al bilancio di trasferimento? Inoltre del bilancio del bilancio c'è un rullo di charge che applica una rullo positiva al paper così che il toner negativamente rullo sia attratto al paper. Se il bilancio di trasferimento è peggio, potrebbe applicare una rullo di charge e, inoltre, un po' di toner si trasferirà al paper. Anche ricordate che il bilancio di trasferimento è sensitivo luce. Un bilancio, esposato a luce per un lungo tempo, può produrre luce. Nota che questo defect potrebbe essere relato al bilancio e al cartello di toner. Il bilancio di trasferimento tende a portare più sui bordi perché sono meno proteggati. Ricordate se le sceglie del bilancio di trasferimento sono fatti. Questo defect potrebbe essere relato a un brano di toner o un toner di toner. Il bilancio di trasferimento è un bilancio di trasferimento. Se il bilancio ha una scuola o un dot, la charge del bilancio potrebbe essere discargati sul brano. Potrebbe avere una linea o due, ofteni non nella stessa posizione. Le linee orizontali, sempre alla stessa distanza e posizione, possono non essere relati al bilancio di trasferimento. Se il bilancio di trasferimento dentro del bilancio è usato, l'accessivo di trasferimento sarà applicato al bilancio, e troppo toner sarà trasferito al paper, causando un grigio background sulla pagina. Poi, il bilancio collega alcuni del bilancio di trasferimento. Se il bilancio di trasferimento è pieno, o il bilancio di trasferimento è troppo vecchio o morto, il bilancio di trasferimento può rimanere sul bilancio, poi sul paper. Nota che questo defect potrebbe essere relato al brano e al cartello di toner. Se il bilancio ha un dolore o una deformazione, potrebbe applicare una ruota di trasferimento per il bilancio, creando faiate, grigie zone. Un bilancio di trasferimento o un adesivo potrebbe causare questo tipo di defecto. Il bilancio muove il sheet precisamente across the drums per creare, layer after layer, l'imagine. Se il bilancio non muove corretamente il sheet, hai un'immagine misalignata. Per esempio, se uno dei denti del GR è bruciato, o stile, potrebbe avere un colore non vuoto sull'edza dell'obiettino, o distorsioni di colore. Il bilancio muove il sheet all'alonga del printer. Un obiettivo, dentro del bilancio, o la deformazione del bilancio potrebbe causare un paper jam. Un obiettivo di trasferimento del bilancio potrebbe causare questo defect, solo se la linea è presente sul bilancio. Le linee verticale potrebbero non essere causate dal bilancio. due dei dettagli di trasferimento del bilancio. Due dettagli di trasferimento del bilancio potrebbero non essere correlato al bilancio. Il tono che non aderisce al paper non è causato dalla unità di belta. Un colore che non è causato dalla belta. Le pagine totalmente blanche sono raramente causate dalla unità di belta. Grazie per la visione!